Un messaggio di Doc Peter, forse non è ancora il momento di cercare un altro lavoro Ho un piano, ma mi serve tempo Dobbiamo resistere, per il bene della scienza L'indomito Otto Octavius Gran notizia, speriamo che il piano funzioni Ehi, ho esaminato i rapporti sui... demoni Vedo che hai cambiato idea Sembrano fuori controllo, hanno attaccato le proprietà di Fisk Stanno contrastando Fisk? Cavolo, pensi anche tu quello che penso io? Guerra tra bande? Dobbiamo provare ad anticiparli Quali sono i covi di Fisk che ancora non hanno colpito? Vediamo, una pattuglia ha segnalato attività sospente nel suo cantiere navale di Portside Grazie, Yuri, vado subito Ehi, Yuri Sai cosa combina Fisk in quel cantiere navale? Non ne ho idea Mando un agente a incontrarti sul posto Si chiama Jefferson Davis Lui conosce la zona Ha talento e lavora da anni sul caso Fisk Se esiste qualcuno informato su quel cantiere È senza dubbio lui Grazie a tutti Grazie a tutti A tutte le unità Rapina veicolo blindato in corso Agenti vicino a S-Stacks Rispondete Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E se mettono anche solo un piede nel cavo avrò la tua testa Ricevuto Capo Bacchini ovunque Prima devo occuparmi di loro Ci sono troppi sgherri qui Ma potrei creare un diversivo con una ragnatela ben posizionata Quel cecchino è protetto da una guardia Dividi e conquista Dividi e conquista dice il saggio Più o meno Lasciami concentrare Non possiamo nascondere niente Continuano a parlare di attrezzature Cosa nasconde Fisk? Bacchini 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Cosa? Chi va là? E ora dove è andato? Cosa? Cosa? Qualcuno si... Cosa? 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 No, forse non era quella giusta. Continua a cercare. Grazie, non l'avrei mai aperta da sola Dubito che l'avrei trovata senza di te Qui non c'è un bel niente Se esiste una stanza segreta ce ne saranno sicuramente altre, noti niente a terra Ahà, possono nascondere le porte ma non i segni che lasciano Dobbiamo trovarne altri Devo trovare dei segni, quindi meglio guardare di nuovo in giro Dove potrei trovare delle tracce? Bingo! Segni e niente porta, o almeno io non la vedo Perfetto, arrivo subito O forse no, l'ascensore è rotto Aspetta, ti tiro su io Primo piano Catafalchi arrugginiti, topi tagliaforte Attento, il ponte è fuori uso Ci penso io Complimenti, atterraggio perfetto Non mangiamo solo ciambelle Giusto Un'altra porta segreta Io penso la serratura, avvertimi quando trovi la centralina Ok, vado Segui Fisk da parecchio, eh? È la mia balena bianca Se fossi una centralina, dove mi nasconderei? I cavi dovrebbero indicare la giusta direzione Trovata! Sistemata! Grandissimo! Ehi, guarda qui Niente Sembra quasi che Fisk voglia prendersi gioco di me Guarda le pareti C'erano delle armi e non possono averle smaltite dall'ingresso principale Deve esserci un passaggio nascosto Guarda il muro Forse controlla l'accesso a un'altra zona Gli uomini di Fisk parlavano di un cavo Forse siamo vicini Credo di sì Sembra un circuito doppio Vedi se riesci a trovare un'altra centralina Trovata! Curtimini di un'altra zona Tu? 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 Andata. Avevi ragione, Jeff. Una botola. Incredibile. Mi daresti una mano? Pesa una tonnellata. Uno, due, tre. Oh, per niente inquietante. Un vecchio tunnel dei contrabbandieri. E nessuno passa lo straccio dai tempi di Al Capone. C'è un enorme blocco di cemento. Non riesco a passare. Diamo un'occhiata da sopra. Qui ho spazio di manovra, aspetta. Sono bloccato! Puoi fare niente! Cos'è stato? La metro, forse. Forza, la struttura non è stabile. Ok, di sicuro non era un treno. No. Sembravano esplosivi. E questi sembrano demoni. Il cavo! Presto! Porta, andiamo! No! I demoni ci hanno battuto sul tempo. Com'è possibile? Deve esserci un ingresso sul retro. Vedi se riesci a trovarlo. Questo posto è un'armeria. O lo era? Qui c'è una stanza con la rete ancora intatta. Perché perdere tempo quando potevano sfondare la rete davanti alla rastretta? Guarda! Hanno fatto saltare le serrature! Qui ci sono delle casse vuote e hanno portato via quelle che non sono riusciti a ripulire. Volevano solo le armi letali. Hanno lasciato i fumogeni, le granate stordenti. Furto con scasso. Andavano di fretta. Sshh! Demoni! Resta qui. Oh diavolo! Hai bisogno di me per fermarli. E di queste. Se ne vanno! Andiamo! Prendili! Fermi! Giù dal cambio! Siete tutti in un atto! Stai a riparo! Grande! Un colpo da maestro! Cerco di dare una mano! Saro io! Allontanati! Ricarico! Che fai? Ti metti in mostra! Lo stordisco! Attento! Sono quasi colpito! Solo quasi? Sta lontano! Lo stordisco! Jeff! È il momento di estrarre l'asso dalla manica! Preso! Mi copro io! Ehi! Grazie, amico! Sto mirando! Dietro di te! Ricarico! Tempismo impeccabile! Io! Allontanati! Visto! Visto! Anche io o qualche amico! Visto! Anche io o qualche amico! Come andiamo? Come andiamo? Applausi! Arriba! Carro io! Allontanati! lo sordisco tu mira arrivo sta lontano lo sordisco fermi tutto bene? vai ti raggiungo se perdo due furgoni di uomini armati in un giorno meglio appendere la ragnatela al chiodo spiderman ci sono ancora dei demoni al cantiere sono bloccato a te come va male direi quei bastardi sono uno se non li fermo finiranno per uccidere qualcuno provo a raggiungerti ma non ti prometto niente sta attento Jeff non fare sciocchia se continua così ti scappa il morto devo avvicinarmi ragazzi avete un posto in più è la tua fermata comincio a sentirmi rifiutato Sì, sì. Fantastico per una volta la Drea in orario. Sì, sì. Sì, sì. Scusi, signorina. Lei può stare qui? Più di te. Dopo la casa d'aste. Il Bugle mi ha assegnato alla cronaca. Ora posso dedicarmi a storie più serie, come questa. E ai demoni. Sai che più ti avvicini a loro, più diventi un bersaglio, vero? Più mi avvicino, più sarà facile per noi fermarli. Noi? Agente Davis, Mary Jane Watson, Daily Bugle. No comment. La capisco. Ma quelli ne parleranno comunque anche senza di lei. E loro si nutrono di controversie. La tua opinione? Non ne ho nessuna. Se vuole, l'ascolto. Ok. Salta su. È proprio brava. две ore 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 ore